Io mi chiamo Elena, sono italiana ed attualmente mi trovo in Svizzera. Normalmente sono una persona molto riservata, però ho deciso di raccontare la mia storia perché penso che possa tornare utile a molte persone che si trovano o si troveranno nella mia situazione. Io circa un anno fa, inizio luglio 2021, ho avuto la diagnosi di microcitoma polmonare. Quando ho avuto la diagnosi il tumore era già di proporzioni piuttosto importanti. Già dall'inizio i medici avevano detto che avrei avuto poche possibilità di uscirne, ma anche se le possibilità erano poche, ho ritenuto che valesse la pena tentare. Il tentativo non è costato poco fisicamente e psicologicamente, ma l'ho fatto e l'ho portato a termine. Fatto questo però non ho risolto il problema. Mi è stato detto che per me c'erano pochi mesi ancora di sopravvivenza e mi è stata descritta anche una situazione che via via sarebbe diventata sempre più pesante. Non ho nessun supporto vitale per vivere, solo una cura a base di cortisone. Mi restava solo da aspettare che le cose peggiorassero. A questo punto io, mettendo in pratica una convenzione che avevo già in tempi non sospetti, prima che succedesse tutto questo, ho deciso di valutare la possibilità di terminare la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Ho parlato chiaramente con la mia famiglia, ho avuto la comprensione e il sostegno che potevo desiderare, però naturalmente quando si è legati affettivamente si cerca sempre di procrastinare questo evento. Comunque mi hanno appoggiata, capita, sostenuta. Io ho chiesto aiuto a Marco Cappato perché non volevo che i miei cari, accompagnandomi loro, potessero avere delle ripercussioni legali e potessero essere accusati di una decisione, di avermi stigata a prendere una decisione che invece è sempre stata solo mia. A un certo punto della mia vita ho dovuto scegliere. Se trovandomi davanti a un bivio volevo percorrere una strada che era più lunga ma portava all'inferno o se volevo invece scegliere una strada più breve che mi avrebbe portato qui a Basilea. Io ho scelto per questa seconda opzione. Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente e io credo di averlo fatto dopo averci pensato parecchio, mettendo anche in atto convinzioni che avevo anche prima della malattia. Io avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e quindi ho dovuto venire qui da sola. Io adesso mando un saluto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene. Li abbraccio tutti. Ciao!